Sì, è stata una partita sicuramente difficile che dovevamo vincere a tutti i costi. Ci siamo caricati, abbiamo avuto un po' di sfortuna nel primo tempo e la palla non riusciva ad entrare con due episodi in difficoltà, però poi è venuta fuori la squadra nel secondo tempo e con quel carattere giusto finalmente siamo riusciti a portare a casa il risultato. Sì, era una partita sicuramente difficile, dovevamo vincere a tutti i costi e noi ci crediamo fino alla fine. Vogliamo la salvezza e dalle prossime tre partite, dobbiamo dare il massimo e cercare di fare più punti possibili per salvarci. Sì, purtroppo le assenze hanno pesate, il nostro nonno giocatore era allenatore, quindi sicuramente le assenze hanno pesate, però sul rigore se probabilmente avessimo segnato sarebbe stata un'altra partita. Bravi loro, ci hanno creduto, hanno vinto, complimenti. Sicuramente come dicevo anche prima le qualità non mancano, è che non è facile, quest'anno non siamo mai stati quasi, cioè nella scorsa partita tutti gli effettivi, quindi se ci siamo tutti possiamo dire la nostra, altrimenti ogni partita è una battaglia e è molto difficile portare a casa i tre punti, però insomma cerchiamo di fare il possibile nelle prossime partite.